Caso 18, il ministro Matteo Salvini indagato per il reato di sequestro aggravato di persona attacca i giudici in diretta Facebook. Piani di sicurezza da rifare, caos sul ritorno del treno da Palermo all'aeroporto, slitta ancora la riapertura. Presentato oggi nel complesso monumentale dello Steri, sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, il progetto Donna Sicilia, la prima iniziativa in Europa di ecomobilità diffusa. Nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 8 settembre, ecco la prima notizia in sequenza, caso 18, il ministro Matteo Salvini indagato per reato di sequestro aggravato di persona attacca i giudici in diretta Facebook. Ha annunciato di aver ricevuto una comunicazione dalla Procura di Palermo con cui viene informato che si sta procedendo ad indagini preliminari nei suoi confronti. Procura della Repubblica, il Tribunale di Palermo è una roba per carità di Dio e quindi non capita tutti i giorni. La apriamo insieme, siccome è da 20 giorni che leggo che sono un sequestratore, un aguzzino, un assassino, un razzista, un fascista. A proposito, tengo a chiarire, a tutti quelli che sono in grado di capirlo, quindi non ai parlamentari del PD. Non mi rivolgo ai parlamentari del Partito Democratico perché hanno già i loro problemi. Io difendo, sostengo, apprezzo e stimo il lavoro dei tantissimi giudici che fanno obiettivamente, onestamente, efficacemente il loro lavoro. Di lotta alla corruzione, di lotta agli abusi, di lotta alla mafia, di lotta agli sprechi. Giù il cappello. Capisco un po' di meno quei pochissimi giudici che si proclamano di sinistra, ma come li capirei poco se si proclamassero di destra, e in base a questa loro cultura politica e partitica emettono sentenze. Secondo me le correnti di sinistra, di destra, di sopra, di sotto, in un ruolo delicato come quello della magistratura non hanno senso. Uno può esserci un dentista di sinistra o un dentista di destra, un taxista di sinistra o un taxista di destra, un imbianchino di sinistra o un infermiere di destra. Fa bene il suo lavoro e basta. Chi decide della vita altrui, chi decide della colpevolezza o dell'innocenza, e si dice di sinistra o di destra, secondo me perde un pochino di libertà e di autorevolezza. Quindi non ce l'ho con nessuno, non attacco nessuno, sono assolutamente sereno nel mio ufficio. Anzi, guardate che bello, approfittate, sto seguendo ovviamente un giorno. Questo è l'ufficio del Ministro dell'Interno, vi incontro ambasciatori, ministri, questori, prefetti, sindaci, e dove ricevo i carabinieri che mi notificano questo atto che io ho contoffermato, la sede del Ministero dell'Interno viminale alle ore 17.41, il Tenente Coloniale, eccetera, eccetera, mi notifica il Ministro Salvini, una busta chiusa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo col protocollo, eccetera, eccetera. La apriamo. Sai come quando apriamo? Poi vieni qua. Con massima serenità, ripeto. Non mi ritengo né un sequestratore, né un eversore, né un molestatore, né un pericoloso assassino delinquente razzista. Guardiamo insieme? Avete mai avuto un indagio? Magari mi assolvono, non voglio essere pessimista per natura. La leggiamo insieme? Chi c'è collegato in questo momento, Fabio? Chi possiamo salutare? 25.000 persone. 25.000 persone simultaneamente collegate. Allora, una piccola parte so che sta ratifando perché mi mettano in gabbia e quindi c'è una parte che dice speriamo che a Salvini vengano dati i lavori forzati che in questa busta ci siano 32 reati perché è un agruzzino, è un assassino, è un razzista, è un delinquente. So che molti di voi invece ritengono che io stia semplicemente facendo quello che voi mi chiedete di fare, difendendo i confini, difendendo la sicurezza, difendendo le forze dell'ordine, aprendo le porte alle persone per bene ma chiudendo le porte a quelli che non scappano dalla guerra. Apro e chiudo la parentesi. Pare che ormai sui 100 immigrati che io avrei sequestrato, qua scopriremo se ho sequestrato o no, 75 sono spariti. Trattenute in busta paga per i dipendenti comunali che non pagano le tasse 2100 i morosi. Pugno duro per chi dal 2013 ad oggi non ha pagato la Tari, Imu e multe per violazioni al codice della strada. 2100 dipendenti del comune di Palermo risultano essere morosi nei confronti del proprio datore di lavoro per multe non pagate ma anche per tasse comunali come Tari e Imu mai versate. Per tale ragione l'assessore Antonino Gentile avrebbe ideato un modo per far rientrare queste somme che potrebbero essere trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti già a partire dal prossimo ottobre. Il comune di Palermo potrebbe così recuperare circa 1,6 milioni di euro. Su questa decisione però Gentile deve fare i conti con l'opposizione che attacca l'amministrazione comunale. Non è dato sapere da quale fonte normativa provengano simili notizie, scrivono in una nota i consiglieri Forello, Argiroffi, Amella, Lomonaco e Randazzo del Movimento 5 Stelle. Pagare le tasse, continuano, è giusto e tutti lo dovrebbero fare ma le procedure legali ed esecutive non prevedono alcuna forma di compensazione con eventuali crediti di lavoro vantati dai cittadini dipendenti del comune. Bisogna comprendere intanto se i circa 2.000 dipendenti hanno ricevuto avvisi di accertamento non opposti e non pagati, scrivono i consiglieri, provocando così l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, che prevede anche la possibilità di pignorare il quinto dello stipendio. Ecco perché, affermano i 5 Stelle, non si comprende la notizia se non come forma di vuota propaganda, a meno che il comune non abbia inventato qualcosa che giuridicamente non esiste. I dipendenti morosi, conclude la nota, vanno trattati come tutti gli altri cittadini palermitani morosi, con fermezza ma senza intenti persecutori. In occasione della visita di Papa Francesco a Palermo, i cittadini che abitano nell'area del porta a porta non potranno effettuare la raccolta differenziata. Lo stop al conferimento riguarda sia le utenze commerciali sia quelle domestiche. In occasione della visita di Papa Francesco a Palermo, i cittadini che abitano nell'area del porta a porta non potranno effettuare la raccolta differenziata. Lo stop al conferimento riguarda sia le utenze commerciali sia quelle domestiche. Per i primi, il divieto di esporre i rifiuti differenziati è previsto venerdì e sabato prossimi, mentre i secondi non potranno disfarsi della frazione residuale non riciclabile venerdì sera. Il provvedimento si è reso necessario per via di una manifestazione di giovani fedeli in piazza Castelnuovo, a partire dalle 18 di venerdì e per tutta la notte, che prevede l'installazione di un palco all'angolo tra via Ruggero VII e via Merico Amari. Lo annuncia il Comune specificando che la RAP provvederà a sopprimere temporaneamente le campane della raccolta differenziata lungo il percorso previsto per il passaggio del Santo Padre. L'amministrazione comunale ha varato anche il piano degli interventi che precederanno e seguiranno la visita pastorale del Pontefice. In campo le società partecipate e settori comunali. La Reset si occuperà di preparare il Prato del Foro Italico in occasione della celebrazione eucaristica, con il montaggio del palco e degli impianti audio e luci e di risistemare l'erba una volta smontato tutto. Il Prato del Foro Italico sarà disinfestato dalla RAP 48 ore prima della visita di Papa Francesco, ovvero entro giovedì. Ma non è tutto perché l'AMAT attiverà anche un servizio di bus navetta per tutta la giornata di sabato 15 settembre, dalle aree parcheggio individuate ai luoghi interessati dalla presenza del Papa. Dal 10 al 16 settembre inoltre verranno sospesi tutti i cantieri lungo il percorso. Sabato invece è stata disposta la chiusura del mercato ittico e del mercatino rionale che si tiene nel quartiere Oreto. Resteranno chiuse anche tutte le scuole di ogni ordine grado, università compresa. Le strade interessate rientrano nel perimetro compreso tra Piazza Mordini, Via La Farina, Via Principe di Villafranca, Via Dante, Piazza Mendola, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Via Volturno, Piazza Verdi, Via Cavour, Via Roma, Piazza Sturzo, Via Isidoro Carini, Via Archimede e Via Libertà. Piani di sicurezza da rifare. È caos sul ritorno del treno da Palermo all'aeroporto. Slitta ancora la riapertura. C'è il rischio di un nuovo slittamento per l'apertura del passante ferroviario che collegherà Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino. Sono nati infatti, nelle ultime ore, dei cavilli burocratici sul piano di sicurezza su una delle gallerie che pare non abbia convinto i tecnici della prefettura, che non hanno voluto prendersi la responsabilità di autorizzare un'apertura, soprattutto alle porte di una settimana caldissima, con il previsto arrivo di Papa Francesco a Palermo. Dunque, tranne miracoli che a questo punto sembrano quantomeno improbabili, per la tratta tra la città e l'aeroporto bisognerà ancora aspettare. Si rimane in fase di pre-esercizio con dei treni di prova. Naturalmente, se dovesse essere confermata la decisione della prefettura, slitterà anche la prevista inaugurazione del 14 settembre, sbandierata con tanto di foto social dall'assessore regionale alla mobilità Marco Falcone, che annunciava anche la presenza di musumeci. Si attendono adesso il parere dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza per le Ferrovie e anche una deroga, un piano d'emergenza, che possa permettere la riapertura della tratta verso l'aeroporto, il cui cantiere è aperto da ben tre anni e mezzo. Cantiere dell'Anello Ferroviario in Via Sicilia a Palermo. Lavori fermi al palo. Continuano gravi disagi per residenti e commercianti della zona. Un crocevia importantissimo, Via Le Lazio e Via Sicilia. Via Le Lazio riapre i battenti al traffico, ma Via Sicilia resta incatenata. Da tre anni e mezzo, un cantiere per l'ennesima volta fermo, con innumerevoli disagi per i residenti e i commercianti. Ieri avete mandato una mail, la risposta, il contenuto e la risposta? La risposta che è stata data è la seguente, che i lavori riprenderanno non prima di giugno 2019, perché prima si devono fermare i treni, il che è raccapricciante. Noi non abbiamo più nessuna intenzione di continuare così. Non ci sono sviluppi per quanto riguarda i lavori, vorremmo sapere dall'amministrazione comunale che cosa intende fare, se c'è qualche piano per riportare la viabilità di Via Sicilia e anche in parte per Via Le Lazio, visto che c'è un bel muro che copre i negozi, vorremmo sapere se hanno un piano di lavoro o qualcosa. Lei mi sembra che sia residente, avete anche l'abitazione? No, ho un'attività commerciale qui, non sono residente qui, però i disagi sono evidenti anche per i residenti ovviamente. Dicevamo danni non soltanto psicologici, ma anche morali, materiali soprattutto, legati agli investimenti che avete fatto, l'è titolare di un bar tra l'altro rinomato in città. Abbiamo avuto dei danni incalcolabili, abbiamo avuto pure il licenziale del personale e ad oggi a tre anni e mezzo all'apertura del cantiere non sappiamo se ancora resisteremo e andrà avanti oppure no. Siamo in condizioni veramente disastrose, sperando che qualcuno si impegni veramente alla vita di questa strada, perché siamo arrivati ai minimi termini. Un'idea per chi ci ascolta, che genere di abbattimento avete avuto? Ma più del 70%. La situazione resta alquanto delicata? Assolutamente, va responsabilizzata l'amministrazione regionale, nella persona dell'assessore Falcone, dell'assessore alle infrastrutture, verso il quale tra l'altro ripongo un'ampia stima. Perché? Perché effettivamente poi in realtà ormai il cantiere attraverso RFI è stato affidato a delle società, le quali probabilmente hanno anche avuto dei loro problemi, ma non possono i loro problemi ricadere sulla cittadinanza. Orlando aveva preso degli impegni che mi sembrano non siano stati rispettati, il passo successivo potrà essere solo quello di far intervenire il prefetto per ragioni anche di sicurezza e di ordine pubblico, perché non dobbiamo certo aspettare che accada il peggio. Ad ogni modo, la settimana prossima assolutamente cercherò l'incontro con l'assessore, vediamo anche se il comitato dei residenti in qualche modo possa farsi parte attiva per incontrare lui e perché no RFI, che poi alla fine è quella che ha l'ultima parola rispetto alla possibilità di questo cantiere. Chiuso il ponte di Ficarazzi, conosciuto dagli abitanti come viadotto Eleuterio. Il Dipartimento regionale alle infrastrutture, dopo averne sottolineato le norme degrado, ha disposto allo stop totale a veicoli e pedoni. A sollecitare la chiusura con una raccolta firme era stato un comitato di cittadini presieduto da Antonino Martorana. Siamo riusciti nell'impresa, abbiamo raggiunto 9.000 firme e devo ringraziare veramente tutti per aver dato un contributo fondamentale. Credetemi che senza le vostre firme, senza l'impegno di cittadini che si sono messi lì sul proprio computer a scrivere il nome e cognome e a firmare, questo ponte sarebbe rimasto un pericolo pubblico per la cittadinanza, sarebbe rimasto come una politica cieca all'esigenza di una cittadinanza, di una comunità asperense e ficarazzese che hanno la necessità di essere collegati fra di loro. Sarebbero rimaste totalmente inascoltate. Adesso siamo arrivati al punto di poter dire vittoria, mezza vittoria, perché questo ponte adesso è in sicurezza, adesso è in sicurezza per i cittadini. Potremmo dire vittoria sul serio quando avremo dei progetti che in questo momento non ci sono, almeno per quella che è di nostra conoscenza. Speriamo quanto prima che la politica che si sta muovendo nel parlare, fare dichiarazioni, cercare amicizie, contatti all'interno delle comunità asperenze di ficarazzi per tentare di raccogliere quanto più possibile da questo avvenimento. Che cominci adesso a poter discutere seriamente di come fare un progetto, di rimettere in sicurezza questo luogo il prima possibile, perché ovviamente lo capiamo benissimo, siamo persone che camminano su questo territorio tutti i giorni. Adesso devono cominciare a pensare sul serio, cosa che non hanno mai fatto, perché se ne fregavano in barba al pericolo pubblico di far passare le persone da qui, adesso comincino seriamente a guardare questo luogo come un luogo di priorità, di importanza, da rimettere a nuovo e noi saremo qua a controllare e a vigilare come sempre. Si pensava fra cittadini, c'è stato un assessore di ficarazzi che ha proposto un ponte, un passaggio militare, però come vedete bene, se date un'occhiata, qui ci sono delle case abusive, delle case che non sono propriamente in regola, suprospicenti al mare e che quindi dovrebbero essere sicuramente abbattute. La sfida è quella al sindaco, alle amministrazioni competenti, fate un ponte alternativo per far passare i cittadini, cominciate a impegnarvi sull'edilizia che è stata fatta sulle coste in questi anni, quando non c'era nessuno all'amministrazione di questo comune, all'amministrazione di questi comuni, si parla di 20-30 anni fa, adesso si comincia a guardare alla mobilità, all'urbanistica e agli sfreggi fatti al fiume, alla costa e soprattutto alle comunità che pagano, che hanno case in regola e che hanno fatto sacrifici per avere queste case in regola. Opere pubbliche a Santa Flavia, tanti progetti realizzati, tanti ancora quelli da mettere in atto. Ce ne parla l'assessore Gino Di Stefano. La politica può risolvere i problemi perché noi facciamo la politica con passione e aggiungerei, visto i risultati che stiamo producendo, con competenza e delle professionalità. I risultati ce li riconoscono un po' tutti. Per il futuro posso annunciare che sarà sistemata l'area di piano stenditore, abbiamo un progetto in essere, lo stiamo definendo, lo presenteremo all'assessorato alle infrastrutture e già c'è una sorta di accordo per un finanziamento di 3.072.000 euro. Poi cercheremo di fare l'impossibile per realizzare una rotatoria in via Falcone all'incrocio, purtroppo che è Consolunto che ha visto più vittime perdere addirittura la vita. Ci stiamo adoperando e su altre cose come sarà la pulizia del porto dopo 30 anni. Devo dire che con questo sindaco e con l'interlocuzione con l'assessorato alle infrastrutture metteremo in atto. Da amministratore flavese non posso far altro che essere fiducioso e orgoglioso di far parte di questa squadra. Ovviamente da cittadino bagherese sono un po' invidioso, non lo posso nascondere e da un lato anche preoccupato, molto preoccupato, perché stiamo dimostrando che chi magari negli anni ci ha additati come la vecchia politica, tutti coloro che avevano prodotto danni e che non erano più capaci di amministrare, invece mi pare che oggi ci sia la chiara e lampante dimostrazione che siamo ancora capaci di metterci in gioco e di arrivare a risultati, devo dire, stratosferici in due sole settimane. Ovviamente c'è il gioco di una squadra, ma come detto prima nulla si fa se non si ci crede. Evidentemente noi siamo persone che riusciamo a fare squadra e ci crediamo. Io non vorrei fare delle puntatine contro bagheria perché è la mia città o contro l'amministrazione perché in questo ruolo non lo voglio fare e non lo posso fare, però i dati sono dati e effettivamente sono preoccupanti. Ahimè, cercheremo il prossimo anno di poter incidere sulle prossime elezioni amministrative, di mettere in campo una squadra di persone di buona volontà e cercare di essere contro una contraposizione politica perché noi non siamo mai contro nessuno, ma semmai una contraposizione politica con molta serenità e speriamo che la gente ci possa dare fiducia anche perché no, visti i risultati che parecchi uomini di bagheria impegnati in varie amministrazioni riescono a dare risultati. Presentato oggi nel complesso monumentale dell'Osteri, sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, il progetto Donna Sicilia, la prima iniziativa in Europa di Ecomobilità Diffusa. Castelli, Bagli Antichi e Masserie metteranno a disposizione degli ospiti colonine per la ricarica elettrica di autoverture green, utile strumento ricettivo per una nuova fascia di turismo sull'isola. È un segmento poco sfruttato quello delle dimore storiche, cosiddetto turismo relazionale. Occorre intanto un censimento serio, una ricognizione per capire quali dimore rimangono a disposizione di possibili clienti. Dobbiamo creare un circuito per la promozione all'estero dove c'è tanto interesse per questo tipo di turismo. È chiaro si tratta di una fascia meglio alta, come è facile comprendere, e però c'è anche un altro aspetto, quello legato alla manutenzione, alla tutela degli immobili di questo patrimonio. Non sempre i proprietari sono nelle condizioni di poterlo fare, sono immobili sottoposti a un particolare regime di vincoli, non possono essere divisi all'interno, non possono essere trasformati, serve soltanto una manutenzione affidata ad artigiani di particolare competenza. Quindi secondo me l'ente pubblico, in questo caso lo Stato, dovrebbe intervenire a favore dei proprietari delle dimore storiche con una serie di sgravi, di incentivi di carattere fiscale, proprio per consentire loro di continuare a salvaguardare questo patrimonio e di metterlo a disposizione di un segmento di clientela che noi vorremmo in Sicilia fosse molto più numerosa. L'Università è partner di questo progetto? Sì, l'Università è sempre partner, noi siamo molto impegnati sul settore dell'auto elettrica, una piccola chicca, noi pensiamo diciamo di fare partire un corso di laurea sulla e-mobility, quindi sulla mobilità elettrica, già a partire dal 2019-2020. Io sono personalmente consapevole e convinto che la mobilità elettrica è la mobilità del futuro, che dopo 100 anni di motore a combustione interna, i prossimi 100 anni saranno del motore elettrico, quindi sicuramente diciamo è giusto che l'Università si impegni su questo, faccia ricerca, prepari i giovani a questo tipo di mobilità. 22 dimore storiche siciliane, case nobiliare e masserie storiche del Settecento, le colonie elettriche, avendo la nostra macchina, la Zoe, un'autonomia di 280 km, abbiamo fatto un percorso e un itinerario, riusciamo a fare il giro di Sicilia attraverso le dimore storiche siciliane con le vetture elettriche, quindi 100% green, mobilità sostenibile diffusa al 100%. Le dimore storiche ce ne sono 22, Villa Valguarnera per esempio è una, ci sono delle masserie nelle madonie che sono bellissime. Nuovo appuntamento, l'undicesimo, con la seconda stagione concertistica Città di Bagheria, organizzata dall'associazione culturale Bequadro e promossa dal comune di Bagheria. Domani a Villa Sant'Isidoro ad Aspra, alle ore 21.30, si terrà il concerto a cura del gruppo bandistico Città di Casteldaccia, ensemble musicale Cuori Siciliani, diretta dal maestro Carmelo Calò. Apriamo questa villa, in realtà da poco fruibile, la città di Bagheria, in realtà una delle migliori mantenute all'interno, molto bella, molto preziosa, sarà possibile anche visitarla. Ho invitato un anno fa circa il maestro Calò a dare questo spettacolo musicale nella seconda stagione concertistica Città di Bagheria che voglio ricordare essere riconosciuta dal Ministero come patrimonio europeo della cultura del 2018. Abbiamo presentato tutta la programmazione del 2018, il Ministero ha valutato tutti gli artisti i tipi di concerti che erano in programma per questa stagione concertistica ed è stata valutata come un patrimonio culturale dell'Europa, la nostra stagione concertistica per Bagheria. Cose belle che dobbiamo ricordare perché generalmente il bagherese ha lo stile di ricordare le cose che non vanno. A Bagheria abbiamo una stagione concertistica che ha un riconoscimento europeo culturale. quindi dicevo che il maestro Calò è stato invitato da me a fare un concerto e liberamente lui ha pensato di portare per questo undicesimo appuntamento, quest'anno abbiamo 16, il suo plesso bandistico Città di Casteldaccia che ormai da tanti anni opera nel territorio comunque non soltanto di Casteldaccia ma anche una nuova realtà dell'ansamble musicale Cuori Siciliani che è un ensemble che porta avanti sostanzialmente un repertorio locale che viene creato da alcuni artisti del cui c'è anche il maestro Calò che suona, con un repertorio tipicamente siciliano. Loro stanno andando al di fuori dal territorio siciliano e stanno portando avanti delle melodie siciliane che stanno riscuotendo un enorme successo di pubblico, ripeto al di fuori della Sicilia. Quindi ascolteremo brani non tipicamente solo bandistici ma da quest'ansamble che si chiama appunto Cuori Siciliani ascolteremo la nostra musica perché la stagione concertistica Città di Bagheria nasce per varie esigenze, intanto come dire promuovere nel territorio bagherese e non solo perché effettivamente arrivano tante persone di fuori di Bagheria ad ascoltare i nostri concerti ma a fare proprio un percorso educativo, culturale nella nostra città. Poi di aprire le nostre bellezze architettoniche perché vogliamo ricordare abbiamo stavolta Villa Sant'Isidoro ma a dicembre abbiamo anche l'apertura della Sala degli Specchi di Villa Palagonia, abbiamo aperto più volte il Museo Guttuso facendo musica e facendo vedere anche i bagheresi perché io lo so, i quadri del nostro amato Guttuso che i bagheresi non ci sono mai andati. Quindi stiamo tentando attraverso la musica che è un veivolo di tante cose, figuriamoci che la cultura è quello che in realtà riesce a ricostruire totalmente un popolo. Tra tutte le arti, la regina di tutta la musica, quindi attraverso la stagione concertistica e quindi domenica sera, domani sera ad Aspra che coincide tra l'altro con l'apertura dei festeggiamenti della Dorata che è la titorale patrona della città di Aspra. Ed è tutto per questa edizione, vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata augurandovi un sereno fine settimana.